Mattinata dedicata alla parte conclusiva della ringa del difensore dell'ex governatore della regione Ottaviano del Turco principale imputato nel processo su presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. Non c'è la traccia di un solo euro, ha detto l'avvocato Cagliazza, o dobbiamo usare l'argomento che del Turco è stato ministro delle finanze come se il ministero delle finanze fosse una scuola di criminalità economica. Il riferimento è all'appello dei pubblici ministeri alla Corte in occasione della richiesta di condanna a 12 anni di reclusione per del Turco. Anche se non sono stati ritrovati i soldi delle mazzette, i PM hanno infatti insistito sulla credibilità di Angelini, testimone accusatore, ricordando anche che Ottaviano del Turco non avrebbe mai avuto problemi a far sparire dei denari, essendo stato presidente della Commissione Antimafia e ministro delle finanze. Cagliazza ha quindi chiesto la soluzione per del Turco perché i fatti non sussistono. La nostra pena, ha detto, l'abbiamo già subita, le nostre vite sono state stravolte. La verità di questa vicenda è raccontata già dagli atti del processo, noi non dobbiamo convincere nessuno. Cagliazza ha evidenziato la storia personale pubblica di del Turco. Se fosse impazzito e avesse deciso di diventare un ladro, l'avrebbe fatto per cambiare vita. Non c'è la traccia dei soldi e la vita non si è modificata nella sua notoria e leggendaria sobrietà e semplicità. Durante la ringa ha parlato anche delle foto relative alla presunta tangente consegnata dall'ex titolare di Villapini, Vincenzo Angelini, il 2 novembre 2007 a Del Turco, a Colle Longo. Cagliazza ha definito il racconto dell'ex imprenditore della sanità assurdità e prova di uno scienziato della calugna materiale. Angelini ha detto ha scelto di non documentare l'adazione lasciando indizi da cui si dovrebbe desumere che è avvenuta. Cagliazza ha inoltre evidenziato che non esiste una sola immagine che ritragga una persona identificabile e a proposito della famosa busta delle mele ha detto che è il film di un calugnatore professionista. Questa è una storia raccontata da chi doveva dare un senso alla spogliazione delle sue aziende con il prelievo di denaro contante. L'ex ministro delle finanze ed ex segretario generale aggiunto della CGL all'epoca di Luciano Lama deve rispondere di associazione per delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. Nello specifico del Turco è accusato di aver intascato mazzette da Angelini per 5 milioni e 800 mila euro. Per questa vicenda fu arrestato il 14 luglio 2008 insieme ad altre 9 persone tra le quali assessori e consiglieri regionali. A seguito dell'arresto il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della regione. Le dimissioni comportarono lo scioglimento del Consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi che poi scelsero il centro-destra con il presidente attuale Gianni Chiodi. Domani ultimo giorno per le arringhe difensive, poi la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per l'attesa sentenza. Grazie. 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 Grazie.